Buongiorno, oggi facciamo vedere come fare gli gnocchi di patate. Allora, io ho già bollito le patate con la buccia, come potete vedere, così non ci assorbono acqua e andremo a mettere meno farina quando le impasteremo. Quindi direttamente con la buccia le passiamo al nostro passapatate che sicuramente tutti abbiamo a casa e vedete dove resta la buccia, rimane qua. Quindi da calde, mi raccomando, non facciamole raffreddare perché se no non le passiamo più dopo. Così. E vedete che non scende nemmeno un pezzettino della nostra buccia di patate nel nostro composto schiacciato. Ok, gli gnocchi di patate sono un piatto facilissimo, veloce, che possiamo fare il giorno prima, mettere in congelatore e consumare il giorno dopo, tipo per il sabato o per la domenica. Ok, adesso che abbiamo le nostre patate schiacciate, io faccio, su ogni chilo di patate ci metto circa un 200-250 grammi di farina. Poi dipende, se la patata è farinosa ci prenderà meno farina, se ha assorbito tanta acqua dovremo mettere più farina. Ok, un chilo di patata, un uovo e 200 grammi di farina. Allora, iniziamo con l'uovo. Io qua ho due chili, quindi metterò due uova. Così. Pizzico di sale. E la nostra farina pesata. La farina inizia poco alla volta, perché se poi è in eccesso ci dovremo aggiungere altre patate per rimediare. Quindi è meglio partire con poca e la aggiungiamo man mano, che siamo sempre in tempo ad aggiungerla. E iniziamo ad impastare fino a quando il nostro composto non sarà bello omogeneo e senza brumi di farina. Ok, ci siamo quasi. Ok, per vedere se il nostro composto è pronto, semplicissimo. Prendiamo un pezzo di patata e proviamo a fare il rotolino. Vediamo così. Vedete che rimane bello, compatto ed omogeneo il nostro rotolino di patata. Quindi il nostro impasto va bene. E tagliamo i nostri gnocchi della misura che vogliamo. Così. E poi li andremo a mettere in un vassoio con sotto della farina. E se ci servono per il giorno dopo li mettiamo in congelatore. Oppure li possiamo fare subito e consumare all'istante. Lo gnocco va bene con qualsiasi sugo, possiamo farli al ragù, al pomodoro e mozzarella, rucola e al pomodoro di pacchino che è buonissimo. Oppure possiamo farli, gli gnocchi che ci avanzano, possiamo farli al pomodoro e poi passare in forno con sopra della mozzarella gratinati. Questo è il nostro gnocco di patate. Ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie.